Attraverso attività come questa riusciamo ad educare il consumatore che poi fa una scelta personale, ovviamente, ma sapendo, conoscendo la differenza tra il prodotto autentico e quello di imitazione. Quando cominciamo la città italiana che è coccata da qualcuno che ha amore per l'italiana cultura, lo smontriamo nei risultati e penso che questo è qualcosa che non puoi amare a qualcuno. Iniziative come queste qua sono fondamentali, siamo ambasciatori, messaggeri del Made in Italy. Il Made in Italy non è solo la moda, non è solo le auto, ma anche il food e quindi penso che batteremo i francesi, siamo più avanti. La città italiana è molto importante, soprattutto in L.A. perché la città italiana è universale. La città è fatta all'interno del mondo, ma penso che c'è un problema di autenticità, chi usa le right ingredienti, chi fa l'hommaggio a dove i ingredienti e dove la cultura è arrivata. Quindi, la più che possiamo educare le persone su quanto importanti i ingredienti sono e le tradizioni, è davvero fantastico. La città italiana è la città italiana. La città italiana è la città italiana. Questa è un ponte fra noi italiani, la cucina italiana e gli americani, che pian piano la cultura della cucina italiana sta crescendo. Io sono qui da 14 anni, ho visto un aumento della cultura italiana, della cucina pazzesco. sono molto contento, mi fa molto piacere. Sono molto contento, mi fa molto piacere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.